Domenica 19 aprile 2023 Ilari Blasi torna a Verissimo, il salotto televisivo Canale 5 da cui, poco più di un anno fa, ha difeso con fermezza il suo matrimonio con Francesco Totti, accusando che aveva organizzato una crisi coppia smentita da entrambi. Da allora la situazione è cambiata radicalmente poco dopo, infatti, è stata annunciata la separazione con una nota ufficiale, forti dichiarazioni a mezzo stampa hanno lanciato accuse di furti e furti di Rolex e borsette, nuovi partner sono entrati nelle loro vite. E lei, Ilari Blasi, non è più tornata in tv, né come ospite né come protagonista di programmi. Lo fa adesso, però alla vigilia della nuova edizione di Isola dei Famosi, la showgirl sceglie l'amica di una vita Silvia Toffanin per raccontare un'esperienza professionale che la ritroverà uguale a prima, ma anche profondamente cambiata per il personale eventi che ha dovuto affrontare negli ultimi mesi. Per ora, voglio rimettermi in carreggiata, nella mia vita c'è prima e un dopo, ha dichiarato al settimanale chi, accennando solo alla sfera privata a cui ha implicitamente fatto riferimento, è po', come quando si torna dall'isola, lo chiamo periodo di transizione. Ora bisognerà attendere prossima puntata Verissimo per sapere se lì, nella familiarità di un luogo che l'ha vista più volte ospite, parlando la conduttrice con quale si è spesso lasciata andare anche alla commozione, raccontano i delicati risvolti una bella storia d'amore ormai conclusa e del futuro che, oltre al lavoro, ha davanti a sé una nuova relazione sentimentale Bastian Müller, che ormai da tempo è al suo fianco.